Il 18 ottobre, in occasione delle elezioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati, la popolazione gregionese eleggerà nuovamente i suoi rappresentanti a Berna. I 200 seggi del Consiglio Nazionale vengono ripartiti tra i cantoni in ragione del loro numero di abitanti. I gregioni hanno diritto a cinque di questi seggi. Il Consiglio degli Stati è composto da 46 membri. Ciascun cantone designa due rappresentanti per la Camera Alta, ad eccezione dei semicantoni ai quali spetta un seggio ciascuno. Per il cantone, le elezioni nazionali comportano molto lavoro di preparazione, il quale inizia con la procedura di presentazione delle proposte di candidatura. La numerazione delle liste viene sorteggiata dalla Cancelleria dello Stato. Successivamente si procede alla produzione della documentazione elettorale, all'istruzione dei partiti e dei comuni e alla preparazione del voto elettronico per gli svizzeri all'estero. I comuni vengono appositamente istruiti e viene effettuata una prova. A Dizentis è il segretario comunale Andri Hendri a essere competente per le elezioni. La selezione del Consiglio nazionale e del Consiglio del Stato monta per me in incarica speciale ed attualmente interessante che si ripete 24 ore. Con solo le elezioni del Consiglio nazionale che succede a tenore il sistema dei proporzioni monta per il singolo votante votante, ma è per me di diventare il biore elettorale in incumbenza tutto speciale. A Poschiavo il segretario comunale Nicola Passini punta su una buona preparazione. Per il Comune di Poschiavo le elezioni nazionali significa un periodo intenso di preparazione, pianificazione e organizzazione fino nei minimi dettagli sullo svolgimento dello spoglio, il rilevamento e l'emissione nel sistema delle singole schede. Ciò implica la nomina di un ufficio elettorale ad hoc e di milizia, organizzando la rispettiva formazione di base dei singoli membri di questo ufficio. L'obiettivo è quello di assicurare uno scrutinio rapido e esatto. È iniziato il conto alla rovescia. Il cantone e i comuni saranno pronti per le elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Dopodiché toccherà agli elettori. Cogliete l'opportunità e partecipate alla decisione di chi rappresenterà i regioni a Berna. Tutte le informazioni relative alle elezioni federali si trovano sul sito www.gr.ch.nrw.